Per la prima volta nella sua carriera da DJ Gianluca Vacchi si è esibito sul palco del Tomorrowland Vediamo insieme com'è stata Ciao a tutti, oggi andremo a vedere com'è stata la prima volta di Gianluca Vacchi sul palco del Tomorrowland Nello specifico farò una reaction ad alcune sue Instagram Stories E allora siete pronti? Andiamo a vedere Qua dice che mancano quattro minuti alla sua esibizione al Tomorrowland per la prima volta E poi fa una storia in cui dice Tomorrowland I love you Cioè praticamente lui ama il Tomorrowland, non la gente del Tomorrowland Vabbè, questo fa capire tante cose, comunque To the left or to the right, no? Devo dire a sinistra e a destra Praticamente quando dice a sinistra lui va a destra Quando dice a destra lui va a sinistra Cioè il contrario Ma invece il pubblico devo dire che va nella direzione giusta Quindi è solo lui che Poi qua fa un po' di effetti con la console Che tra l'altro anche è spenta se andiamo a vedere Quindi io Poi qua fa una storia insieme a DigiSnake Number one, è il passo number one Secondo me però lo dice di tutti Qua con Dimitri Vegas like Mike Ma il peggio è essere dopo questi ragazzi in un festival Fuorido, vabbè, secondo me non sarà anche lui quello che ha detto Però vabbè Qua invece Beh, qua devo dire che invece Vabbè, a parte degli effetti ovviamente della Dezimogeni eccetera Però sembra che la gente qua in questo regolo lo seguiva pieno Quindi Qua dai, diciamo che è riuscito a farsi seguire Chi è questo? M Tourism Music Sto qui conversando con questo grande uomo Con chi è in Bruxelles? Con l'abuelo Vabbè, dai, insomma Tu stai dicendo? Vabbè, comunque, insomma Queste erano alcune delle Instagram stories di Gianluca Vacchi Che raccontavano un po' così la sua prima volta sul palco del Tomorrowland Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale Se volete commentate Fatemi sapere cosa ne pensate di Gianluca Vacchi Di queste sue esibizioni Della sua presenza al Tomorrowland Insomma, tutto quello che volete Ci vediamo mercoledì con un video in cui vi dirò Cosa vedrete nel mese di agosto Qui sul mio canale E in cui vi augurerò anche buone vacanze Quindi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao